Tutto è iniziato quando la professoressa Narita Mazzeo ci ha parlato del progetto Insieme si può donare un sorriso, un progetto di solidarietà attiva. Così ci siamo trasformati in volontari di solidarietà. È nato tutto come un gioco dove siamo diventati personaggi delle favole. E il nostro obiettivo è far sorridere i bambini ammalati. Misione Confusa!